1542 De Historia Stirpium, il più completo e innovativo erbario rinascimentale, viene stampato a Basilea. Si tratta dell'opera di un geniale medico e botanico tedesco, Leonard Fuchs, che per tutta la vita lavorerà allo studio e alla descrizione delle proprietà medicinali delle piante, lasciando un patrimonio monumentale. Nella biblioteca antica di Aboka Museum è custodito gelosamente un esemplare di quest'opera. Da questo prezioso e antico volume, Aboka ha realizzato una nuova e prestigiosa riproduzione facsimilare, creata con la solita maestria, unita a tecnologie avanzatissime e corredata da un dettagliato commentario curato da Duilio Contin e Lucia Ton Giorgi Tomasi. Capolavoro di arte e scienza, che elenca le virtù curative di ben 343 piante, minuziosamente illustrate in 517 splendide tavole xilografiche acquerellate, De Historia Styrpium va ad arricchire magnificamente la collezione degli antichi erbari e per la prima volta originale e riproduzione facsimilare hanno la stessa casa, Aboka Museum. Grazie a tutti. Grazie a tutti.